Questa è la nostra legatrice Fiction 2, ultima arrivata, anche se ormai sono qualche anno che la stiamo utilizzando, è la conferma dell'utilità che diamo nel lavoro dell'agricoltore, perché è la macchina che ha la maggior resa rispetto ad una legatura manuale. Riesce a fare il lavoro di tre persone, è entrata per ultimo ma con una batteria a litio che è nell'impugnatura della macchinetta, dà un'autonomia giornaliera perché sono 15.000 legature, con possibilità di utilizzare la stessa come ultimo modello, con bobina a bordo oppure con bobina al fianco. La differenza è che bobina a bordo, completa indipendenza della macchina, bobina a fianco, riesco ad avere una macchina estremamente leggera rispetto a tutte le altre, quindi maggiore efficacia nell'utilizzo. Accensione, ci sono possibilità di regolare gli avvolgimenti per avere una legatura più resistente o meno, possiamo utilizzare quattro tipi di filo in agricoltura, soprattutto in viticoltura, utilizziamo un filo standard, uno trasparente e un filo di carta che ha un rivestimento biodegradabile, rivestimento biodegradabile. Questa è la nostra legatura. Molto semplicemente riusciamo a fare una legatura e agevoliamo enormemente il lavoro dell'agricoltore. La macchina con bobina a bordo pesa meno di un chilo, senza bobina a bordo pesa 800 grammi, ma capite bene che utilizzando il filo il peso si riduce e quindi l'agricoltore, il viticoltore soprattutto, è agevolato nell'utilizzo di questa macchina. Macchina semplicissima da utilizzare, si carica la bobina molto velocemente, con un clic eseguiamo la legatura e il lavoro è fatto, come si dice insomma. E evitando di utilizzare pezzetti di filo, avvolgerli, è una fatica enorme e soprattutto tempi di legatura molto lunghi rispetto all'utilizzo della nostra macchina.